La macchina degli investimenti dell'Expo 2015 prosegue nella sua marcia, nonostante le critiche e le legittime preoccupazioni sulla mancanza di investimenti di fondi pubblici direttamente sul nostro territorio. Oggi in provincia è stata presentata una guida ai temi dell'Expo, in particolare in occasione del grande evento il Comune di Bergamo ha annunciato l'intenzione di realizzare un nuovo orto botanico. In buona sostanza l'intenzione sarebbe quella di creare ad Astino una sezione distaccata dell'orto botanico, si vorrebbe realizzarla ovviamente per il periodo dell'Expo e si vorrebbe creare un sito espositivo naturalistico delle culture che vengono ovviamente sviluppate in Lombardia e si vorrebbe farlo proprio in Astino perché Astino è un luogo particolare perché ha una tradizione millenaria. Oggi viene presentato questo progetto al tavolo della provincia e poi inizieranno i contatti sia diretti con la società dell'Expo. Una nuova guida dicevamo perché c'è ancora poca informazione sull'Expo. Che è la seconda ed è importante perché c'è ancora poca informazione su Expo. Noi stiamo proprio cercando di creare dei percorsi finché il turista internazionale o anche nazionale decida dopo aver visitato il sito espositivo di venire a Bergamo perché a Bergamo c'è qualcosa che lo interessa. Quindi stiamo facendo il percorso dei formaggi, dei vini, dei castelli, il percorso spirituale, le cose legate a Papa Giovanni. Ma le preoccupazioni riguardanti l'indotto dell'Expo per Bergamo rimangono reali. Pochi o nessun investimento di fondi pubblici per il territorio aerobico, tutto sembra essere lasciato all'iniziativa dei privati. Non è d'accordo il consigliere di amministrazione di Expo Fabio Marazzi. Non posso che non essere d'accordo, se poi la domanda riguarda gli investimenti diretti, gli investimenti infrastrutturali, ribadisco quello che ho detto prima. Non è un tema che tocca direttamente la società Expo in quanto tale. Il dato di fatto è che comunque in occasione di Expo, e poiché ci sarà Expo e poiché c'è Expo, una serie di infrastrutture, a cominciare da quelle delle grandi vie di collegamento autostradale, hanno avuto oggettivamente, ed è fuori di dubbio, un'accelerazione. Grazie a tutti.